Siamo pronti ovviamente per un nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In questa giornata il vostro unico limite potrebbe essere l'immaginazione, per cui cercate di non abbattervi ma al contrario di pensare sempre più in alto. Toro, oggi potresti assistere a una serie di eventi che non vi aspettavate e che rappresenteranno un momento importante per voi, soprattutto perché deciderete di fare dei cambiamenti e troverete la forza per parlarne alle persone giuste o a chi vi sta vicino. Gemelli, il vostro calore e il vostro affetto in questa giornata saranno indispensabili per una persona che ne ha davvero bisogno e che non finge di star male. Avrà davvero la necessità di confidarsi e di essere aiutato. Cancro, se la giornata di oggi non inizierà esattamente come volevate, allora sarebbe il caso di provare a cambiarla in corso d'opera. Infatti soltanto voi avete questo potere. Leone, oggi non sarete in grado di tenere nascosti i vostri sentimenti e le vostre sensazioni nemmeno per un attimo e quindi le persone che vi sono intorno sapranno in ogni momento cosa vi passa per la testa. Vergine, oggi tenterete un approccio diverso con una persona che proprio non vuol sentirne parlare di voi. Peccato solo se perderete inutilmente del tempo utile da poter sfruttare magari con qualcun altro. Bilancia, dovreste cercare di non pregiudicare tutti gli sforzi che avete fatto nel rapporto con una persona per la vostra gelosia. Reazioni esagerate infatti potrebbero inclinare in modo irreversibile già deboli relazioni fondate sul poco o niente. Scorpione, nella giornata di oggi avrete a che fare con un po' di persone che vi daranno fastidio che purtroppo non potrete ancora evitare. Dovrete quindi mantenere fermi i nervi e non farvi prendere dall'istinto. Sagittario, è possibile che i ricordi affollino le vostre ore che vorreste in realtà trascorrere con le persone che amate, ma sarà inevitabile tentare di dare un senso a qualcosa che vi opprime la mente. Capricorno, oggi non dovrete farvi distrarre da nessuno nel bel mezzo del vostro processo creativo. Se state ideando qualcosa, la miglior cosa da fare sarà quella di chiudervi in ufficio, staccare il telefono e cercare di dare almeno un'impostazione a quello che vorrete fare in futuro. Acquario, le vostre idee in questa giornata potrebbero essere migliori di quelle di un tempo, ma comunque potrebbero non essere sufficienti a risollevare una situazione non molto favorevole. Pesci, proprio non lo volete capire. Le persone che vi sono vicino stanno facendo di tutto per cercare di incentivarvi, ma dovete essere voi a spronarvi da soli e a comprendere che è giunta l'ora di cavarsela con le proprie gambe, ma soprattutto che dovete assumervi anche qualche responsabilità.